L'agguato ai danni del re della pasta Ciro Moccia negli ambienti inquirenti prende sempre più corpo alla pista che porta ad una richiesta estorsiva nei confronti dell'imprenditore di Castellammare. Indaga la procura ordinaria ma l'antimafia è già stata allertata. Proseguono senza sosta le indagini, ufficialmente nessuna ipotesi è esclusa ma gli investigatori si sono concentrati dal primo momento sul racket. Il fascicolo aperto dal PM Emilio Prisco della procura di Torre Annunziata potrebbe presto essere inoltrato alla DDA di Napoli per competenza. Gli episodi infatti sarebbero diversi e avrebbero preceduto la sparatoria in cui Moccia è stato gambizzato. A cominciare da alcune lettere anonime ricevute dalla famiglia come racconta Susanna, sorella di Ciro e presidente dei giovani imprenditori dell'Unione Industriale di Napoli in un'intervista al mattino. Mio fratello passò subito ai fatti e denunciò l'accaduto alle forze dell'ordine. Poche righe ma dal contenuto evidentemente minatorio e nel mirino erano finite le diverse attività che i Moccia conducono proprio nel napoletano. Si va dai supermercati Deco al pastificio artigianale Fabbrica della Pasta di Gragnano fino ad arrivare alla Locanda della Pasta, l'ultima attività imprenditoriale dei Moccia che sorge nell'antico pastificio di Nola, dismesso e ristrutturato. Decine di potenziali posti di lavoro che potrebbero essere finiti nelle mire dei clan di Camorra della zona ingolositi da un'opportunità del genere. Ma le estorsioni in questo periodo possono significare anche pizzo di Natale. A meno di un mese dalle festività infatti i taglieggiatori della Camorra avrebbero cominciato a bussare alle porte di commercianti ed imprenditori.